mamma pure il circolo è chiuso e a scuola e ora va anza no è che tanto è sempre la solita gente che li posso vedere la settimana prossima io non capisco cosa cambi ma li posso vedere la settimana prossima non c'ha voglia di uscire non vieni nonno nonna sieni ma che sono? sono ferri da stiro devi stirare allora questo è un ferro moderno di ora di cui è con l'acqua e qui questo è il contenitore dell'acqua di cui si apre qui ci si mette questo è pieno di acqua si mette l'acqua qui così si richiude si attacca il ferro alla spina al momento che è caldo si guarda perché c'è il termostato si gira a secondo il calore che si vuole dell'indumento che si stira se è terita basso se è cosone un po' più alto e se è lino al massimo e qui questo c'è il pulsante per il vapore che si può far venire più tanto vapore perché una piega che c'è non va questo è un ferro elettrico sempre di cui è molto peso con il suo postaferro perché sennò brucierebbe perché questo non si può mettere in piedi così perché c'è la spina si attacca e quando è caldo si tiene un panno si cerca di farlo scaldare poco quando è caldo si stacca perché non c'è il termostato questa è una piastra di cui ce ne vorrebbe due si mette sulla cuscina economica tutte e due se ne prende una si stira e quell'altra si scalda perché stirando questa si ghiaccia e si cambia questo è un altro ferro è un ferro molto molto antico di cui si apre qui funziona così e ci si mette i fizzi di fuoco qui e si richiude dal momento che è caldo si aspetta che sia caldo che si romisca qui col fuoco che c'è dentro questo è un altro molto più pesante di cui si apre c'è la chiusura con un gallo si apre e ci si mette sempre i fizzi di fuoco e si chiude bisogna stare molto attenti perché ci sono i buchi se è un tipo di legname tipo un legno che scoppietta scappano le loie di via si può bruciare il panno il vestito la camicia che stiri questo e basta si nonna ma con tutto questo che ci faccio? ci devi stirare te non hai voglia di uscire perché ti costa poca fatica fidati della nonna se riesci a stirare la camicia con questo poi non vedi l'ora quindi Grazie a tutti